buongiorno si qui è praticamente mezzogiorno lo dico in questi casi almeno il pomeriggio mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 30th so the last day reading last day of abril 2022 and it's a saturday in naples a clear afternoon where he's still right now si scusate se mi sono spostato ma purtroppo non dipende da me comunque dicevo 71 6 celsius 22 71 6 farina 22 celsius and this means that it's that day really 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 soft like this day in this video then also over because seems more a summer climate and spring climate but io avendo ancora un po di febbre purtroppo non è scesa ancora ancora circa 38 sento leggermente più freddo ma comunque sento allo stesso tempo caldo sensazione particolare ma è così sì per quanto genere video toots è il caso comunque lo faccio penso di sì ma non lo so comunque sempre separato da questo quindi occhio non so se si vedeva bene comunque today today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the week e qui ovviamente essendo già pomeriggio questo giorno è notato in ore rispetto a voi ma comunque credo fino alla fine della giornata per cui bene così speriamo di continuare anche domani in questo treo scusate mi sono spostato di nuovo purtroppo il sabato è sempre un po confusionario anche altri giorni ma comunque non dipende sempre da amico e si spostamente dipendono sempre da amico comunque say that this from the mythical window with the orange red blue green water curtain and it's green in roller shooter behind me on the top not visible and factoring the shot and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 e ever great day in more the people follow the channel riporsi un saluto davvero a tutti and also i hope you have a great breakfast purtroppo ho fatta in questo fatto quando mi sono spostato e poi ho fatto adesso il video in questi momenti qui già l'ho fatta la colazione purtroppo per cui spero che invece voi appunto ancora dovete fare che vi possiate consolare soprattutto se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti si alzi io in i video tutti in the case al do it or tomorrow trovate per questo aspetto un po' così ma purtroppo avendo ancora un po' di sebre mi sto lavando un po' di meno ho shampoo sto facendo un po' di qualche volta meno quindi troppo è così quando mi metto completamente in sesto mi sto facendo un po' di meno mi sto facendo un po' di meno mi sto facendo un po' di meno